E oggi come vedete iniziamo l'oratorio estivo detto fatto con i nostri ragazzi dal 24 fino al 29. È un'occasione bella per stare insieme, le famiglie di Casandrino ci hanno affidato i loro bambini, i loro ragazzi ed è un'opportunità per metterci sempre di più in gioco per il Regno di Dio e far passare l'amore di Cristo. E allora chiedo a nome della comunità tutta una preghiera particolare affinché questa settimana possa andare nel migliore dei modi nell'allegria, nella crescita insieme e nello stare insieme a Gesù. Un saluto a tutti e in particolar modo ai nostri amici dell'America, al Padre Thomas e alla sua comunità. Un bacio e che Dio vi benedica.